Da un momento legato alla valutazione dei rischi è emersa la presenza di un piccolo manufatto nell'area di pertinenza della scuola coperto con lastre di ondulina che si presumeva essere contenente amianto. Da questa scoperta si è proceduto con continui solleciti all'ente proprietario che è la provincia regionale di Palermo per indagare sulla presenza di questo materiale. Com'è lecito presumere, non si è avuta mai nessuna risposta né sopralluoghi per la verifica di questo materiale. A questo punto ho deciso di farlo io come dirigente scolastico, ho fatto fare una campagna di indagini su tutto l'edificio scolastico, quindi sono stati esaminati tutti i materiali e i componenti edilizi del fabbricato. In effetti la copertura era in materiale contenente amianto e poi con ulteriori indagini che sono passate attraverso prove fisico-meccaniche anche sui materiali, si è scoperto che nei bruciatori delle caldaie c'erano materiali volatili contenenti amianto. Le canne fumarie erano in amianto, quindi l'amianto era presente nell'istituto. Da ciò è nata sempre una richiesta alla provincia per risolvere il problema, chiaramente non è stato risolto. L'istituto ha dovuto porre in essere delle misure compensative, degli interventi di prevenzione. Siamo nel cosiddetto picco di mortalità. In questo periodo, da adesso, diciamo dal 2015 fino al 2025, ci aspettiamo appunto di avere il maggior numero di morti per esposizione professionale e anche non professionale. Noi come Inel ci occupiamo dell'esposizione professionale e vediamo che abbiamo, soprattutto in certi comparti, lavoratori del cemento amianto, lavoratori marittimi e anche qualcosa dell'edilizia, abbiamo un incremento in questi anni delle morti per mesotelioma. I rischi è importante che si sappiano ed è importante anche far capire alla popolazione civile, diciamo la popolazione normale, che l'amianto è pericoloso nel momento in cui viene gestito in maniera errata, per cui a volte forse è preferibile lasciare il serbatoio in Ethernet a casa piuttosto che dismetterlo in maniera sbagliata, buttarlo per strada o farlo a pezzi senza alcuna precauzione. Grazie